Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale GoWatch. Io sono Cristian e oggi vi presentiamo un Q&Q by Citizen. Eravamo interessati a uno Smile Solar, 200 metri di resistenza all'acqua, materiale riciclato, 30 euro, una bellezza di orologio, ma purtroppo non abbiamo trovato nessuno che lo spediva qui a tenere fede dove viviamo. L'abbiamo rimpiazzato con questa bellezza. Oh! Oh! Troppo troppo carino. Costato 10 euro in meno, quindi 20 euro, un orologio simpatico, originale, un qualcosa di diverso per il nostro polso o come idea regalo. Andiamo a vederlo insieme. Prima di iniziare vi ricordo che se non siete iscritti al canale, di iscrivervi e attivare la campana per ricevere tutte le notifiche. Seguirci anche sul nostro canale Instagram dove tutti i giorni mettiamo le foto dei nostri orologi, oltre che su Telegram dove ogni tanto mettiamo qualche offertina. Buona visione! Ok amici, e qui abbiamo l'orologio e vediamo quello che ci può offrire con solo 20 euro. Q&Q è un orologio che fa parte del gruppo Citizen. Abbiamo già proposto in un top questa marca e finalmente ne abbiamo uno tra le mani. Come vi dicevo l'interesse era sul Q&Q Smile Solar, interessante per il fatto di usare energia solare, quindi non utilizza pile. Oltre a usare materiale riciclato è la chicca poi che con la collezione Smile Solar una parte del guadagno va a favore delle mense scolari dei popoli di Africa, Asia, più bisognosi. Guardando nel sito di Q&Q sono arrivate a dare fino a 150.000 pranzi e nelle mense scolari fino al 2017 immagino che a oggi sono molti di più. Quindi c'è poco con questa iniziativa e per questo appunto era interessante il discorso dello Smile Solar. Oltre che avevamo visto un orologio da 30 euro con 200 metri di resistenza all'acqua, super interessante. Ma il problema è questo che non abbiamo trovato nessuno che fa spedizione qui a Tenerife dove viviamo. E quindi intanto che cerchiamo un qualcuno che ci invia l'orologio che ci interessava abbiamo trovato questa bellezza con solo 20 euro. Appena l'ha aperto, provato al polso, mi sono detto oh bello, mi ha dato la foto a Giovanni e ha detto oh proprio figo. Mia moglie me lo vede al polso e ha detto ok è una bilancia portatile, è una bilancia portatile. Cosa di cui sono contentissimo invece l'ha visto mio figlio e mi ha chiesto se glielo regalo. Gli è piaciuto, quindi perfetto un altro orologio che va a mio figlio che poco a poco finalmente si sta allontanando dagli sguardo. Smartwatch e gli sta iniziando a piacere un po' questa cosa degli orologi analogici. Ragazzi caratteristiche di questo modello, partiamo con le dimensioni. Il diametro di questo orologio è di soli 31 mm, ha un lag to lag di appena 37 mm, spessore di 8 mm e lo spazio tra le anse è di soli 18 mm. Un orologio quindi molto piccolo, si nota sicuramente su dei polsi anche come il mio di 17 cm e mezzo, eccellente sul polso da donna o comunque anche da uomo ma con una circonferenza più piccola e sta perfettamente sul polso di un adolescente. Quindi può essere un'ottima idea di regalo anche, se si vuole uscire un po' fuori dal classico, questo può essere un orologio originale e piacevole. Il disegno della cassa è sì, veramente molto carino, vale. Ha il fondello a pressione, in questo caso in acciaio inox, mentre la cassa come potete vedere è completamente cromata. Cromata ovviamente su questi prezzi non si può pretendere il massimo. Questo sì il vetro non è plastico ragazzi ma è minerale, quindi sicuramente molto più resistente. Allora vi dico subito il cinturino, dopo parliamo del cinturino, comunque il cinturino veramente molto rigido e penso che sia la prima cosa da cambiare. Cosa carina, ansette e forate per un cambio rapido del cinturino. Un dettaglio che su questo prezzo veramente uno non si aspetta. Allora su Amazon vendono diversi colori, questo ovviamente su un giallo ocra, rosa o blu. In genere mi butto sempre sul blu quando voglio vedere un orologio che mi può interessare. Però è un azzurro più che altro, un azzurro acquarello e perlomeno in foto mi dava un senso un po' più giocattolo. Invece questo ha un suo perché ed è abbastanza elegante. Anzi vi dirò di più, mi son pentito averlo preso col cinturino nero perché c'è lo stesso modello con cinturino bordeaux che ci sta veramente alla grande. Sicuramente comunque scomodo però mi ha dato l'idea perché gli comprerò a questo orologio un cinturino nato. Sicuramente molto più, molto più comodo ma andrò su quel colore perché mi è piaciuto veramente tanto. L'abbinamento è perfetto. Ragazzi il movimento ovviamente è al quarzo, un quarzo migliota. Da che ricordo che fa sempre parte del gruppo Citizen. Troppo carina nel centro quel, i punti rossi dove segnano, che segnano i secondi. E poi non so perché in Italia soprattutto lo chiamano Q&Q saltarello. Saltarello non è, si richiama un po' gli orologi saltarello ma il saltarello non è. Sulla destra ovviamente potete vedere la corona molto piccola ma giustamente ridimensionata all'orologio. Comunque comoda ad estrarre e per regolare l'ora. Non ha l'ora quindi che salta ma ha due dischi, uno più centrale dei minuti e quello più, quello superiore delle ore che col movimento della corona si imposta semplicemente l'ora. Sistema sicuramente semplicissimo però è bello, è curioso. A me piace, piace un casino ragazzi. È veramente interessante come orologio. Non dico che è l'orologio da avere assolutamente, però con 20 euro cosa ci si compra? Un Casio che va benissimo eh, che Casio qua ragazzi perché credo che sono gli orologi che più abbiamo proposto sono Casio e Seiko. Però con 20 euro è un acquisto che perché no? Che si può fare ogni tanto per cambiare un po' un orologio diverso. Ragazzi niente, il cinturino ovviamente è un cinturino sintetico, cinturino non vale neanche la pena parlarne, molto ma molto ma molto basico. Non è la prima cosa da cambiare, ora lo provo al polso ma comunque rigido, scomodo. Questo sì è veramente un cinturino per un orologio da 20 euro, niente di più. Dai proviamolo al polso, mi tolgo il mio adorato Segal. E qui abbiamo questo orologio un po' su un polso da 17,5 centimetri. Orologio dalle dimensioni piccolo ma sul polso comunque non lo vedo per niente male. A me piace, a me piace e ora mi sto chiedendo perché gli ho detto a mio figlio che gli lo regalavo. Che poi ora sono a maniche corte ma anche questo orologio anche con una bella camicia a maniche lunghe non è per niente male. Non è per niente male. Dai allora ragazzi, ci sta. Ah mi sono dimenticato di dirvi che come c'è scritto anche sul quadrante è resistente all'acqua fino a 30 metri. E niente che dirvi, a me è piaciuto parecchio, completamente diverso dagli altri orologi in mio possesso che comunque ho portato qui sul canale. E niente, è veramente interessante ragazzi. Io comunque per chi può essere interessato all'acquisto vi lascio il link in descrizione nei commenti. Se avete voglia di risparmiarvi qualcosa di più che una pizza e una birra, avete un orologio che può anche avere il suo perché nella vostra collezione. Amici, credo aver detto tutto. Se non l'avete ancora fatto per favore date un mi piace a questo video, seguiteci se ancora non l'avete fatto e attivate la campana per ricevere tutte le notifiche. Oltre a seguirci anche sul nostro canale Instagram dove mettiamo le foto di tutti i nostri orologi, oltre che su Telegram dove mettiamo qualche buona offerta. Ciao a tutti amici, alla prossima! Ciao a tutti!